Edoardo Battaglia, si è conclusa la gara del Broccardi, sconfitta per 1-0 con il Don Bosco, una gara sostanzialmente equilibrata, pochissime occasioni da una parte e dall'altra, un episodio da decisa, il rammarico ovviamente è quello, no? Sì, hai letto bene te, è un episodio dubbio, perché non abbiamo subito, il nostro partire non abbiamo fatto una parata, un'uscita, sia da una parte che dall'altra, anche noi non è stata la nostra miglior partita, eravamo un po' nervosi, ci venivano a prendere bene alti, ma va bene così, una sconfitta non toglie quello che abbiamo fatto di bello in questo inizio campionato. Ecco, appunto, vi hanno preso molto atti, anche tu hai avuto davvero pochi palloni giocabili, no? Quanto meno per ragionarci un pochino di più. Sì, sì, venivano bene a pressarci, belli alti e non siamo riusciti a esprimere il miglior calcio, però come ripeto va bene così, una partita, ora domenica prossima andiamo con il Valdivara e andiamo là per vincere naturalmente. Ecco, come tutte le partite proviamo a vincere sempre, come si è visto oggi, anche all'ultimo, ci abbiamo provato fino all'ultimo, poi calcio è questo, va bene così. Poi ricordiamo comunque il Don Bosco deve ancora riposare, insomma, ci sono 4-5 squadre che molto ovviamente fino alla fine si giocheranno questo campionato. Sì, 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 ma ogni partita è dubbia, non c'è una squadra più forte dell'altra, come per ora si è visto, vai a giocare con le ultime classifiche e vanno a prendere punti a Lepri nel campionato stra.